Il Lichtenstein, secondo il Lichtenstein e terzo Città del Vaticano. Intenzione, vediamoci, perché ti hanno apparto il pallone subito in Kenya. Via, ancora due, quattro, cinque palloni mi sembra. Ce la faranno a portarli tutti, vediamo un attimo. Vediamo, stanno arrivando tutte a dieci. C'è un'irrigolarità, appena bene. Città del Vaticano, ma vediamo che il giudice è. Attenzione su sette, che è di Portogallo. Sette anche più giudice, ma pensiamo sicuramente. Attenzione alla prima paura. E sono partiti, sono partiti. Città del Vaticano, primo, secondo. C'è il Kenya, c'è il Kenya che sta facendo. Città del Vaticano che si è perso, si è perso il città del Vaticano. Portogallo che sta rimontando. Portogallo rimontando. Ancora il Portogallo, primo, in Kenya. In Kenya si sta incontro per la gara. Viva, 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 viva. Genia, ma in Portogallo vedete che recupera. Ancora in Portogallo. In Kenya però sembra possibile raggiungere. Città del Vaticano. Primo, primo, in Kenya. Bravissimi.